Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati con questa nuova puntata di 4 chiacchie all'interno nel mondo open source Questa è una puntata lampo, una puntata che faccio per condividere con voi alcune sensazioni al caldo che ho avuto nell'installare quest'oggi Kubuntu 15.10, la daily attualmente in circolazione Che dire, con quest'ultima release di KDE, minore release che va a correggere bug release del mese di ottobre del 2015, ho potuto apprezzare alcuni interessanti miglioramenti per quanto riguarda la stabilità Se durante il ciclo di sviluppo e successivi aggiornamenti abbiamo avuto problemi di stabilità sparsi Sto parlando di Kubuntu, sto parlando con crash del pannello, crash del file manager, crash di crash di crash di qualsiasi cosa Ho potuto apprezzare che adesso i crash sono stati azzerati, ne ho avuto soltanto uno Per riguardo l'apertura di un file con ocular, però nulla di trascendentale Non si sono ripresentati con l'aggiornamento Quindi penso, credo, spero che KDE sia finalmente tornata a livelli prima del rilascio della versione 5 Quindi più stabile, più solida per l'uso quotidiano Ho notato anche che problemi di velocità sono stati quasi tutti sistemati Resta comunque, almeno su Kubuntu 15.10, un problema per quanto riguarda il consumo di risorse Che effettivamente è superiore rispetto, che ne so, a una Ubuntu 15.10 Oppure una Linux Mint 17 con Cinnamon E anche tuttora si è messa a paragone con, ad esempio, una Ubuntu Gnome Sì, la RAM viene utilizzata di più, però comunque Nell'uso c'è un risconto di una certa fluidità Quindi è tutta RAM che va in cache e che quindi serve a caricamento delle applicazioni L'unico che continua ad essere lento, almeno nel mio caso, è sempre il file manager È sempre Dolphin Cioè è più lento nel caricamento rispetto ad altri file manager Che sono praticamente istantanei Uno su tutti, Tuner, non so se l'avete mai provato Tuner, premete e parte Cioè, sembra che l'app è minimizzata Invece anche il primo avvio è velocissimo Bene, con questo è concluso Erano soltanto alcune considerazioni personali su Kubuntu 15.10 Come ben sapete, la versione finale è prevista per circa la fine del... Fra qualche settimana, insomma Prima della fine del mese Fatemi sapere che cosa ne pensate voi Se siete della mia stessa opinione Se l'avete provata Se avete anche voi riscontrato in KDE un miglioramento Con questi ultimi riasci, bug fees e quant'altro A voi, lunga vita prosperita a tutti i conti Ciao ciao